L'importanza della prevenzione per preservare la vista. Molti tarantini hanno affollato Piazza della Vittoria per aderire all'iniziativa degli screening visivi gratuiti organizzati dai Lions Club Taranto-Falanto. Ai controlli si sono sottoposte circa 70 persone tra gli 8 e gli 80 anni. Nel 75% dei casi sono stati riscontrati deficit visivi di varie entità. Gli esami sono stati condotti dagli ottici optometristi di Federottica Taranto guidati dal presidente Nicola Palmisano. Alla giornata hanno preso parte anche gli studenti dell'Istituto Liside di Taranto Sezione Ottica impegnati in un progetto di alternazza scuola-lavoro. Noi siamo i cavalieri dei non vedenti, noi Lions, e quindi questo tipo di attività è l'attività principale, quindi è il service più importante. Inoltre, quest'oggi, abbiamo organizzato anche la raccolta degli occhiali usati, che saranno spediti presso il centro di raccolta occhiali usati Lions, rigenerati e quindi rimessi a nuovo e poi spediti nei paesi del terzo mondo o comunque presso le strutture dedicate alle persone che hanno necessità. Facciamo prevenzione, la prevenzione come sappiamo è importantissima perché se riusciamo a valutare subito i problemi visivi che ci sono in ognuno di noi, riusciamo in tempo utile a correggerli.